Per quanto riguarda l'auditorium è stato aperto tutto in fretta in occasione delle elezioni regionali, però per esempio in questa settimana scorsa c'è stato un evento che era Cinecibo, quindi ci sono state alcune manifestazioni all'interno dell'auditorium e il Comune ha dovuto spendere circa 3.000 euro per i vigili del fuoco perché senza la loro presenza non c'era la possibilità di usufruire. Quindi abbiamo un auditorium ancora non collotato, ci vanno comunque i bambini. Ecco, ma Vallo della Lucania, le vere emergenze quali sono? Le scuole, perché abbiamo delle strutture molto vecchie e sono anni che non ci viene fatta alcuna manutenzione se è una pitturazione qualche giorno prima che aprono le scuole. Abbiamo un problema traffico perché Vallo ha soltanto una strada di ingresso e una strada di uscita, a maggior ragione dopo che è stata aperta questa piazza nuova e chiusa, che quindi è stata data con questo nuovo piano traffio. Poi abbiamo un problema che penso che hanno poco tutti quanti, abbiamo poco lavoro. È vero che Vallo è una città di servizi, passa tra quelle che hanno il reddito più alto in provincia di Salerno, però questo è dovuto perché ci sono molti dipendenti pubblici e quindi perciò il reddito medio è un po' più alto. Vallo non so che cosa succederà l'anno prossimo, certamente ci sarà Aloia che si candiderà di nuovo, a Metano penso e spero, come ho già detto, che starà insieme ad Aloia. Non so se anche il Movimento 5 Stelle forse farà una lista. Come penso e spero? Penso e spero perché è bene che stanno insieme. Penso che anche il Movimento 5 Stelle credo che sia intenzionato a fare una lista, credo anche loro. E lei aspira a una candidatura a sindaco? Ma io vorrei dare il mio contributo, ci sto pensando insieme ad alcuni amici e stiamo vedendo se è possibile questo, se è possibile perché no, se poi va bene va bene, se no non è un problema. L'intervista integrale potrete seguirla al termine del telegiornale. Grazie. Grazie.